benvenuti in questo quarto video dedicato ai sistemi due equazioni in due incognite iniziamo la risoluzione tramite il metodo del confronto in cosa consiste questo metodo abbastanza semplice consiste nel ricavare la stessa incognita da entrambe le equazioni e poi eguagliare quello che abbiamo ottenuto cioè i secondi membri a questo punto avremo una equazione nella sola x o nella sola y ricaviamo quindi x o y sostituiamo nell'altra e otteniamo o y o x ma vediamo subito il primo esempio primo sistema 3x meno y uguale meno 1 seconda equazione x più y uguale 5 abbiamo detto che ricaviamo la stessa incognita da entrambe le equazioni beh qui conviene ricavare la y perché nella prima equazione è a coefficiente meno 1 nella seconda equazione è a coefficiente 1 quindi dovremo dividere o moltiplicare solo la prima equazione per meno 1 per ottenere y uguale procediamo quindi meno y uguale meno 1 meno 3x dalla prima equazione e y uguale 5 meno x dalla seconda equazione ora moltiplichiamo per meno 1 la prima in modo da avere appunto y uguale e otteniamo y uguale 1 più 3x y uguale 5 meno x uguale 5 meno x e poi scriviamo la prima o la seconda perché dalla prima di questo sistema otteniamo x e poi da questa seconda che sto scrivendo y quindi abbiamo 3x più x dal secondo membro della prima equazione uguale 5 meno 1 dal primo membro sempre della prima equazione la seconda rimane y uguale 5 meno x ed ora 4x 3 più 1 uguale 5 meno 1 4 e y uguale 5 meno x dividiamo per 4 la prima equazione questo ci permette di calcolare x x uguale 1 e poi sostituiamo nella seconda 5 meno 1 4 la coppia ordinata soluzione del sistema è 1 4 come sempre facciamo la verifica prendiamo la prima equazione 3 per x meno y uguale meno 1 3 per 1 è 3 meno 4 meno 1 quindi meno 1 uguale meno 1 verifica ok secondo sistema x più 4y uguale 4 e poi y uguale 1 mezzo che moltiplica x meno 1 questa seconda equazione è già esplicitata rispetto a y quindi ricaviamo y anche dalla prima e abbiamo 4y uguale 4 meno x e poi y uguale 1 mezzo x meno 1 ora dividiamo la prima per 4 per ottenere y uguale e abbiamo y uguale 4 quarti e 1 meno x quarti quindi un quarto x y uguale x meno 1 e ugualiamo i secondi membri e otteniamo 1 meno 1 quarto x uguale 1 mezzo per x meno 1 e come seconda equazione possiamo lasciare la seconda quindi y uguale 1 mezzo x meno 1 qui non ho eseguito la moltiplicazione 1 mezzo per x meno 1 perché adesso moltiplichiamo la prima equazione per 4 in modo da eliminare i denominatori e otteniamo 4 meno x uguale 4 diviso 2 è 2 e quindi 2 per x meno 1 quindi dalla prima abbiamo meno x poi abbiamo il meno 2x che viene dal secondo membro che è la moltiplicazione tra 2 ed x questo è uguale a meno 2 che è la moltiplicazione tra 2 e meno 1 e poi il meno 4 da primo membro y uguale 1 mezzo x meno 1 anche qui la moltiplicazione possiamo farla alla fine quando abbiamo ricavato x meno 3x uguale meno 6 la prima equazione y uguale 1 mezzo x meno 1 dividiamo per meno 3 la prima equazione in modo da ottenere x uguale quindi x uguale 2 y uguale 1 mezzo per 2 meno 1 vale a dire 1 mezzo quindi le soluzioni del sistema sono x uguale 2 e y uguale 1 mezzo facciamo la verifica possiamo usare la prima equazione e quindi 2 più 4 per y che è 1 mezzo uguale 4 semplifichiamo abbiamo 2 più 2 che fa 4 uguale 4 verifica ok terzo sistema 6x uguale 1 meno 2y e 5x più y uguale meno 3 mezzi abbiamo la prima esplicitata secondo x ricaviamo anche dalla seconda x quindi per la prima possiamo già dividere per 6 e ottenere x uguale x uguale lasciamo un'unica frazione quindi 1 meno 2y fratto 6 e 5x uguale meno 3 mezzi meno y dalla seconda ora riscriviamo la prima x uguale 1 meno 2y sesti la seconda diventa x uguale dividendo per 5 e quindi moltiplicando per un quinto chiaramente che è la stessa cosa x uguale meno 3 mezzi per un quinto è meno 3 decimi e poi meno y per un quinto meno un quinto y diamo a capo che non ho molto spazio e ugualiamo i secondi membri otteniamo la prima la riscriviamo così com'è x uguale 1 meno 2y fratto 6 e per seconda scriviamo 1 meno 2y sesti uguale meno 3 decimi meno un quinto y ora eliminiamo i denominatori dalla seconda moltiplicando per il minimo comune multiplo il minimo comune multiplo tra 6 10 e 5 è 6 per 5 30 e quindi ancora la prima così x uguale 1 meno 2y fratto 6 e per la seconda abbiamo primo membro 30 diviso 6 è 5 per 1 meno 2y è 5 meno 10y uguale 30 diviso 10 è 3 per meno 3 meno 9 30 diviso 5 è 6 per meno y è meno 6y x uguale 1 meno 2y fratto 6 la prima e per la seconda abbiamo meno 10y più 6y da secondo membro uguale meno 9 meno 5 da primo membro quindi x uguale 1 meno 2y fratto 6 e poi abbiamo meno 4y uguale meno 9 meno 5 meno 14 dividiamo per meno 4 chiaramente primo membro rimane y e al secondo membro abbiamo segno più 7 mezzi e quindi x uguale 1 meno 2 per 7 mezzi fratto 6 y uguale 7 mezzi 2 e 2 si semplifica x uguale 1 meno 7 è meno 6 meno 6 diviso 6 è meno 1 y uguale 7 mezzi questa è la coppia che soddisfa il sistema verifichiamo usando la seconda equazione quindi 5 per x che è meno 1 più 7 mezzi deve essere uguale a meno 3 mezzi e quindi meno 5 più 7 mezzi uguale meno 3 mezzi ma meno 5 è meno 10 mezzi ricordo che quando faccio questi calcoli moltiplico l'intero per la frazione che ha numeratore e denominatore uguale al denominatore dell'altra frazione e quindi qui abbiamo meno 10 mezzi questa volta faccio tutti i passaggi più 7 mezzi uguale meno 3 mezzi ma ora abbiamo due frazioni con lo stesso denominatore quindi il numeratore della frazione somma è la somma dei numeratori meno 10 più 7 fa meno 3 e quindi meno 3 mezzi uguale meno 3 mezzi verifica ok prossimo sistema un terzo x più 4y uguale 5 e poi seconda equazione meno x più 1 mezzo y uguale meno 5 mezzi ora qui posso ricavare x da entrambe le equazioni perché ho una delle due x che ha coefficiente meno 1 quindi una delle due equazioni resta leggermente più semplice meno x uguale meno 5 mezzi meno 1 mezzo y e un terzo x uguale 5 meno 4y per avere x uguale dalla prima moltiplico per 3 e ottengo x uguale 15 meno 12y la seconda la moltiplichiamo per meno 1 e otteniamo x uguale 5 mezzi più un mezzo y ora la prima la riscriviamo così com'è x uguale 15 meno 12y e poi ugualiamo i secondi membri 15 meno 12y uguale 5 mezzi più un mezzo y moltiplichiamo per 2 la seconda e abbiamo x uguale 15 meno 12y la prima 30 meno 24y uguale 5 più y quindi x uguale 15 meno 12y e meno 24y meno y uguale 5 meno 30 è la seconda x uguale 15 meno 12y e poi meno 25y uguale meno 25 dividiamo per meno 25 la seconda e otteniamo y uguale 1 sostituiamo nella prima otteniamo x uguale 15 meno 12 cioè 3 questa è la coppia ordinata soluzione dell'equazione per la verifica possiamo usare la prima equazione quindi abbiamo un terzo per x che è 3 più 4 per y che è 1 deve dare 5 3 e 3 si semplificano 4 per 1 4 1 più 4 5 5 uguale 5 verifica ok prossimo sistema meno 3x più 6y uguale 4 3x uguale 6y meno 4 ora prima di proseguire con la risoluzione del sistema notiamo subito una cosa che i coefficienti a parte i segni sono proporzionali ora proviamo a ricavare la x da entrambe le equazioni moltiplico per meno 1 la prima e non divido per meno 3 perché ci accorgiamo subito che appunto la prima è 3x porto il meno 6y al secondo membro perché ricordo sto moltiplicando per meno 1 che diventa 6y e il 4 diventa meno 4 moltiplicato per meno 1 e vediamo che sono la stessa equazione questo ci dice che il sistema è indeterminato perché anche volendo fare il confronto confrontiamo i secondi membri 6y meno 4 uguale 6y meno 4 ciò significa 0 uguale 0 possiamo concludere e scrivere la prima equazione così com'è e la seconda 0 uguale 0 concludiamo che il sistema è indeterminato alle superiori ci fermiamo qui ma come abbiamo già visto nei precedenti video possiamo esprimere o la x o la y attraverso un parametro reale per esempio h e giungere ad una soluzione che dipende da questo parametro ricaviamo x dalla prima equazione abbiamo x uguale dividendo per 3 scriviamo il passaggio x uguale dicevamo 6y fratto 3 che è 2y e poi meno 4 terzi abbiamo detto poniamo la y ad esempio uguale ad h con h parametro appartenente ai numeri reali e troviamo la soluzione x uguale 2h meno 4 terzi y uguale h potremmo trovare una soluzione particolare ponendo h uguale a un numero reale cioè meno 1 0 1 eccetera oppure lasciare le soluzioni indicate parametrizzate e procedere con la verifica facciamo in questo secondo modo e quindi utilizziamo ad esempio la seconda equazione per verificare quindi 3 per x significa 3 per 2h meno 4 terzi uguale a 6 per y cioè 6h meno 4 3 per 2 6h meno 3 per meno 4 terzi è meno 4 e quindi con un solo passaggio abbiamo già verificato la bontà delle soluzioni un'ultima cosa introduciamo la dicitura dell'ordine di infinito di tale soluzione cosa significa dipendendo le soluzioni da un solo parametro si dice che tale sistema ha infinito alla 1 soluzioni e si indica con il simbolo di infinito alla 1 vedremo che aumentando i parametri aumenta anche l'esponente dell'infinito ad esempio quando faremo i sistemi in tre equazioni in tre incognite può capitare che le soluzioni dipendano da due parametri in questo caso diremo che il sistema ha infinito alla 2 soluzioni ma questo lo vedremo appunto quando faremo i sistemi in tre equazioni tre incognite prossimo sistema 2x meno 1 che moltiplica y più 3 più 5 y meno 1 uguale 2x per y più 4 più x seconda equazione 12x più 17 uguale 7y allora moltiplichiamo i due primi binomi abbiamo 2x per y e 2xy 2x per y 2x per più 3 è più 6x poi abbiamo meno 1 per y meno y meno 1 per più 3 meno 3 più 5y meno 1 uguale 2x per y 2xy 2x per 4 8x più x seconda equazione seconda equazione 12x più 17 uguale 7y allora per la prima abbiamo subito 2xy 2xy che si elidono e quindi continuando abbiamo 6x secondo membro abbiamo 8x più x è 9x che portato al primo membro diventa meno 9x poi per y abbiamo meno y più 5y che è 4y portiamo i termini noti al secondo membro abbiamo meno 3 meno 1 che è meno 4 scusate qui c'è un errore il testo mi dice più 1 meno 3 più 1 quindi meno 2 al secondo membro è 2 seconda equazione 12x più 17 uguale 7y ora 6x meno 9x è meno 3x ricaviamo la x e quindi portiamo il 4y al secondo membro 2 meno 4y ricaviamo la x anche dalla seconda equazione quindi 12x uguale 2y meno 17 dividiamo la prima equazione per meno 3 e la seconda per 12 otteniamo otteniamo x uguale meno 2 terzi più 4 terzi y dalla prima e x uguale 2 dodicesimi cioè un sesto y meno 17 dodicesimi dalla seconda ora possiamo riscrivere la prima così com'è x uguale meno 2 terzi più 4 terzi y e confrontare i secondi membri meno 2 terzi più 4 terzi y uguale un sesto y meno 17 dodicesimi moltiplichiamo per il minimo comune multiplo la seconda quindi per 12 minimo comune multiplo tra 3 6 e 12 e procediamo con la prima così come x uguale meno 2 terzi più 4 terzi y e la seconda 12 diviso 3 4 per meno 2 meno 8 12 diviso 3 e 4 per 4 16 quindi 16 y uguale 12 diviso 6 e 2 quindi 2 y 12 diviso 12 e 1 e qui rimane meno 17 x uguale meno 2 terzi più 4 terzi y e 16 y meno 2 y dal secondo membro uguale meno 17 più 8 dal primo membro scusate qui mi sono accorto che era 7 y e quindi 7 sesti y 7 sesti y e 7 y dopo la moltiplicazione per 12 vedete che gli errori sono ammessi ma l'importante è accorgersene quindi 7 7 sesti 7 sesti 7 y 7 y ora la prima equazione rimane così come x uguale meno 2 terzi più 4 terzi y e poi è 16 meno 7 e 9 y uguale meno 17 più 8 è meno 9 dividiamo per 9 e quindi y è uguale a meno 1 e x è uguale a meno 2 terzi più 4 terzi per y cioè meno 4 terzi meno 2 terzi meno 4 terzi e meno 6 terzi cioè meno 2 quindi x uguale meno 2 y uguale meno 1 coppia ordinata soluzione del sistema verifichiamo usando la prima equazione anche se è un po' più lunga e quindi 2x meno 1 per y più 3 significa 2 per meno 2 meno 1 che moltiplica meno 1 più 3 poi abbiamo più 5y più 1 quindi più 5 per meno 1 più 1 uguale 2x per y più 4 più x e quindi 2x per y più 4 più x e quindi meno 2 ora 2 per meno 2 è meno 4 meno 4 meno 1 è meno 5 che moltiplica meno 1 più 3 che è 2 e poi abbiamo un 5 per meno 1 che è meno 5 più 1 dal primo membro questo uguale a meno 4 per meno 1 più 4 che è 3 meno 2 ora meno 5 per 2 è meno 10 meno 5 più 1 è meno 4 uguale meno 4 per 3 è meno 12 è meno 2 e qui abbiamo un meno 14 uguale meno 14 verifica ok vediamo l'ultimo esercizio per questo video 3 y più 24 più y meno 2 al quadrato più 4y uguale 4x più y al quadrato più 4 prima equazione 3x più 2y uguale 1 seconda equazione sviluppiamo i calcoli per la prima abbiamo 3y più 24 al quadrato del binomio più y al quadrato meno il doppio prodotto 4y più il quadrato del secondo 4 più 4y uguale 4x più y al quadrato più 4 seconda equazione rimane così com'è per adesso 3x più 2y uguale 1 poi vediamo cosa ci conviene ricavare o la x o la y semplifichiamo dalla prima y al quadrato y al quadrato meno 4y più 4y e 4 e 4 dovremmo essere a posto dal secondo membro della prima equazione meno 4x poi abbiamo il più 3y portiamo al secondo membro il 24 quindi meno 24 3x più 2y uguale a 1 ecco tendo non l'ho detto questo ma tendo sempre a riportarmi al sistema nella sua forma canonica e poi scegliere l'incognite da esplicitare e qui abbiamo 3y e 2y è abbastanza indifferente ricaviamo la y da entrambe le equazioni quindi dalla prima 3y uguale meno 24 più 4x e dalla seconda 2y uguale 1 meno 3x dividiamo per 3 che è lo stesso dire moltiplichiamo per un terzo la prima e per 2 che è lo stesso dire moltiplichiamo per un mezzo la seconda e quindi y uguale meno 24 per un terzo è meno 8 e poi abbiamo 4x per un terzo che è 4 terzi x dalla seconda y uguale 1 mezzo meno 3 mezzi x confrontiamo i secondi membri meno 8 più 4 terzi x uguale 1 1 mezzo meno 3 mezzi x per seconda possiamo usare la prima y uguale meno 8 più 4 terzi x e procedere con le semplificazioni nella prima equazione intanto portiamoci x a primo membro abbiamo 4 terzi x più 3 mezzi x uguale un mezzo più 8 y uguale meno 8 più 4 terzi x la seconda moltiplichiamo la prima per 6 che è il minimo comune multiplo delle sue frazioni e abbiamo 6 diviso 3 è 2 2 per 4 è 8 8x più 6 diviso 2 è 3 per 3 9x uguale 6 diviso 2 è 3 6 per 8 48 quindi più 48 y uguale meno 8 più 4 terzi x 8 più 9 è 17 x 3 più 48 è 51 e y uguale meno 8 più 4 terzi x dalla prima 51 per 3 è 17 quindi se dividiamo per 17 otteniamo x uguale a 3 quindi x uguale 3 y uguale meno 8 più 4 terzi per 3 cioè meno 8 più 4 meno 4 quindi la coppia soluzione del sistema la coppia ordinata è x uguale 3 y uguale meno 4 verifichiamo usando la seconda equazione avevamo 3x più 2y uguale 1 e quindi 3x più 2y uguale 1 3 per 3 è 9 2 per meno 4 è meno 8 e quindi facilmente 1 uguale 1 verifica ok soluzioni corrette bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetevi un like e vi ringrazio condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti i miei Instagram Facebook grazie un saluto a tutti e alla prossima a a Grazie a tutti.